Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui a portarvi un nuovo Scott Builder. Vi porto, come mi avete chiesto negli scorsi video, la Silver Serie A che mi stavate domandando. Vi porto questa squadra che ho pagato circa 150.000 crediti, molto molto divertente da utilizzare e anche molto competitiva se per quello. Prima di iniziare però vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, se arriviamo a 300 mi piace uscire un nuovo video. Vi invito a scrivermi nei commenti quale altre squadre vorreste vedere da qui in poi come Scott Builder. Per esempio molti mi hanno chiesto Hybrid da 100.000 crediti, cosa che farò. E soprattutto vi volevo informare che, non so da quando, però d'ora in poi negli Scott Builder molte volte inserirò i giocatori tipo Silver Messi, Silver Ronaldo, Silver Bale, Silver Gesù, Silver Mia Nonna, Bronze, Hazard, Bronze, chiunque, più ne ha più ne metta. Quindi se vi garba l'idea lasciate un bel pollice e scrivetemelo nei commenti. Comunque partiamo subito dalla squadra che ovviamente mi sono dimenticato qui di impostare, mettiamo argento, campionato, serie A. Primo giocatore Raffaele come portiere. Raffaele mi è abbastanza piaciuto, un buon portiere con delle buone statistiche, soprattutto di tuffo e riflesso abbastanza alte. Pagato relativamente poco, ottima altezza. In realtà prima di lui avevo preso Carriso, però non mi aveva fatto straimpazzire e quindi ho deciso di cambiarlo. Comunque sia, con la difesa che avevo abbastanza solida ho subito veramente poco, per cui ha preso un solo gol in tre partite. Un solo gol. Andiamo con il terzino. Troviamo Cavanda, terzino destro, ottimo giocatore. Non ho messo Abate perché il prezzo è veramente assurdo, secondo me. È inutile, secondo me, spendere quasi 100.000 crediti per portarsi un terzino destro a casa, secondo me. Sì, certo, è un ottimo terzino, però le statistiche più o meno sono molto simili a quelle di, appunto, Cavanda. Per cui ho scelto lui, però, appunto, spendere così tanti soldi è illegale, secondo me. Cavanda, come vedete, ha delle buone statistiche. Peccato che non abbia un'ottima statistica in passaggio. Se avesse qualcosa di più sarebbe decisamente meglio. In ogni caso è un ottimo giocatore, dotato di velocità, buono in difesa, soprattutto nei recuperi, appunto, in velocità e ottimo, ottimo fisico. I centrali sono, allora, a destra, utilizzato Bambà, del Palermo. Giocatore abbastanza solido, forte in difesa, ottimo fisico, abbastanza alto, anzi, decisamente alto, con una discreta velocità, prezzo relativamente basso. Vi ho portato a casa un buon giocatore. Compagno di reparto, invece, è Koulibaly, che è molto simile come statistiche, un po' meno in difesa, un po' più in velocità, più alto ancora. Però ha questo work rate alto normale, che non è il massimo, però in game si sente abbastanza poco, sinceramente. Comunque si ha la difesa abbastanza solida, quindi la coppia va decisamente bene. Penso che comunque sia la miglior coppia da utilizzare in una Silver Serie A. E, infine, come terzino sinistro ho usato Olebas, che come molti di voi sapranno è uno dei miei terzini sinistri argento preferiti del gioco, ma non solo da quest'anno. Veloce, forte in difesa, buon tiro, buon passaggio, buon fisico, davvero un ottimo giocatore. Prezzo molto molto alto per un terzino, però comunque sia, secondo me, li vale tutti. Andiamo con il centrocampo, troviamo Carmona sulla destra, giocatore molto buono, con statistiche abbastanza bilanciate, tranne che per il tiro. Vabbè, ha questo Wargret alto alto che ci sta abbastanza, peccato che non sia altissimo, quindi di testa non è un fenomeno, però comunque costa poco, 700 crediti ci stanno. Mentre il suo compagno di reparto è comunque un giocatore molto simile a lui, cioè Alvaro Gonzalez, con un pelo più di tiro, però vabbè, chi se ne frega, statistiche anche qui molto molto bilanciate. Wargret è normale, normale, prezzo molto basso, due assist in quattro partite, anche lui ha il problema dei colpi di testa, quindi se voi cercate un giocatore magari un po' più forte fisicamente o di testa, magari spostatevi un po' su Obiang o giocatori correlati. Andiamo con la parte più forte della squadra, cioè l'attacco, la fase più offensiva. La troviamo come COC, Dybala, che è un mostro, ragazzi, fortissimo, tre gole, un assist in quattro partite, un giocatore veramente formidabile, l'unico suo problema qual è che ha due stelle più debole, con il destro praticamente neanche riesce a camminare, qualcosa del genere. Però ha un sinistro che, ragazzi, compensa assolutamente, è un giocatore fortissimo, ha un ottimo tiro, molto di più di quanto sembra sulla carta, un buon passaggio di sinistro, ovviamente, ottima velocità, 4 stelle abilità, quindi davvero, davvero forte. Ala, intanto qui ho sbagliato, Ala destra ha utilizzato Niango, un'altra perla di questa squadra, ragazzi, provate questo giocatore perché merita davvero tanto, ha un'ottima velocità, un dribbling assurdo, con 4 stelle abilità, 4 stelle più debole, un tiro veramente molto buono, tranne che per il fatto che ha poca finalizzazione, infatti molto spesso si mangia dei gol davanti alla porta, però con 4 gol in 4 partite direi che va abbastanza, decisamente bene per un Ala. E poi ha un discreto passaggio. E un fisico che in realtà pensavo avesse qualcosa di più in fisico, comunque lui è un giocatore con una buona forza fisica, non so poi da cosa dipenda quel 68 di fisico. Prezzo un po' altino, però li vale tutti, ve lo garantisco perché davvero vi fa vincere le partite. Poi, Ala sinistra ho utilizzato Perotti, davvero un gran giocatore, con 5 stelle più debole, la cosa che spicca di più. Mi è piaciuto tanto anche, ovviamente, le 4 stelle abilità, ma il work rate alto-basso, veramente pauroso, infatti è sempre in attacco. Due gol e un assist in 3 partite. 3 partite perché al suo posto io avevo iniziato a giocare con Coman, però mi sono trovato molto male con Coman, perché io nelle ali, oltre che essere abbastanza veloci, cosa che lui è abbastanza, ricerco più tiro e più passaggio. Lui ha veramente delle statistiche di tiro e passaggio abbastanza pessime, quindi ho deciso di catacultarmi su Perotti, perché ha delle statistiche molto migliori, molto migliori non si dice, delle statistiche migliori, anche se ha meno velocità, ma mi garantisce sicuramente più gol e più assist, almeno poi questo è un punto di vista mio. Comunque sia, provate Perotti perché davvero merita. E infine andiamo con il giocatore più forte e più costoso della squadra, l'avrete già capito chi è, cioè Luis Muriel che tra l'altro si trasferirà alla Sampdoria, Muriel che è fortissimo, senza ombra di dubbio, 9 gol su 10 sono gol perché ha ottima finalizzazione, velocità pazzesca, dribbling assurdo, tiro fenomenale, work rate pauroso, 4 stelle abilità, 4 stelle abilità, è tutto sommato un giocatore fenomenale. Poi andate a vedere il prezzo, spostate lo sguardo sul acquistato per 100.000 crediti o più, penso che sia un prezzo altissimo, secondo me nessun giocatore dovrebbe valere, cioè dovrebbe costare così tanto, almeno parlo di argento, perché è davvero altissimo, cioè poca gente che può permettersi di spendere così tanti crediti per un giocatore argento. E' altissimo il suo prezzo, com'è altissima la sua qualità, la sua importanza nella squadra, però il prezzo è veramente alto, non ce n'è. In ogni caso di sostituti secondo me del suo livello non ce ne sono, ci sono buoni giocatori come Zaza o Kaka eccetera eccetera, ma come Muriel non ce ne sono. Comunque raga, questa è la squadra che ho fatto io, ripeto, 150.000 crediti circa per acquistarla, fatemi sapere nei commenti se vi piace, quali giocatori mi consigliate per la Serie A, quali sono secondo voi i migliori giocatori da mettere in una Silver Serie A, lasciate un bel mi piace, 300 mi piace uscirà un nuovo video, come ho detto prima, scrivetemi nei commenti per tutto quello che volete, e iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione, io adesso vi lascio le clip, noi ci vediamo al prossimo video, bella raga! Grazie a tutti! Grazie a tutti!